Sì, sono campani con un'azienda agricola. Sono bambiardi, sono pettoso, sono preso con il passrodo, sono sparato con l'anzea. Siamo a rispetto, sono volate a prendere con l'anzea. Ah, ha voluto voare? Io so spavano con l'anzea. Hanno preso l'anzea, quella che cercavamo, però non hanno visto la mia faccia, capito? Loro non hanno preso la mia faccia, capito? Sì, sì. Ora che c'è il bonazzo deve venire a Rima, ci buttano altri cose. un altro motore che tra l'opera ha preso lì 80 cavalli vero? si e che gente ha detto? dici non fanno niente ma almeno non l'hanno visto mi baciano, capito? se c'è bisogno di comprare l'altro motore allora non c'è bisogno che ci fai tu a comprarli ne avete mandato qualc'altro a comprarli, no? se dov'è ripasso una via? se dov'è ripasso una via? ma non lo sai non c'è bisogno di comprare l'altro motore vieni mi chiamatevi che cosa ripeto da qua fu qui il nudo non ci continuano a marchi allo vada l'amore ma tu non dici lì? tu non devi fare la pagina per te e questo ne so ancora sai in camion? tu devi fare la pagina per la scuola i coppi ah e ora è spesso chi c'è? tu devi fare la pagina per te ah Grazie.